Carlos Perez, dunque una bella vittoria contro il Ruvo. Sì, una vittoria importante che dà ossigeno alla classifica e alla salvezza in Serie B. Infatti, insomma, tre punti che servono a tirarvi ancora più su da quella zona. Devo dire che avete comandato abbastanza il match durante tutta la partita. Sì, è stata una partita difficile, però siamo stati bravi a contenere gli avversari e a risolvere la gara alla fine. Un'ultima cosa, sei giornate alla fine del campionato, dunque l'obiettivo è vicino e siete davvero un bel gruppo. Sì, l'obiettivo è l'aggancio della salvezza, è un obiettivo molto chiaro per noi.